L'Italia e i territori, regioni, province e comuni. Il territorio dello Stato italiano è diviso in regioni, province e comuni. Regione, province e comuni sono detti enti locali. Sono amministrazioni territoriali che organizzano, gestiscono e garantiscono i servizi ai cittadini. I cittadini possono rivolgersi a queste istituzioni per avere informazioni, servizi e assistenza. Le regioni italiane sono 20. Dal nord a sud abbiamo... Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria e le due isole Sardegna e Sicilia I territori delle regioni sono molto ampi e comprendono milioni di persone. I comuni sono enti più piccoli e corrispondono ai centri abitati e alle città dove abitiamo. I comuni organizzano e gestiscono i servizi ai cittadini come le anagrafi, le scuole, i servizi sociali. Il comune più grande all'interno di una regione è il capoluogo di quella regione. Dal nord a sud abbiamo... Aosta Torino Milano Trento Venezia Trieste Genova Bologna Firenze Perugia Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli Bari Potenza Catanzaro E nelle isole Cagliari e Palermo. Nei capoluoghi sono presenti tutti i principali uffici amministrativi. Le province sono territori più grandi dei comuni, ma più piccoli delle regioni. In ogni regione esistono più province. Nelle province sono presenti le prefetture che rappresentano il governo sul territorio. Le prefetture sono gli uffici a cui rivolgersi per richiedere alcuni documenti importanti. Roma Fra tutte le città di Italia, Roma svolge un ruolo particolare. Roma è la capitale d'Italia. A Roma si trovano il Presidente della Repubblica, le sedi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che compongono il Parlamento. Anche gli uffici dei ministeri si trovano a Roma. Anche gli uffici dei ministeri si trovano il Presidente della Repubblica, che compongono 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 il Presidente della Repubblica. Grazie a tutti.